E sì, quanti amanti erano passati per il suo letto in quegli ultimi anni da quando lavorava la Bior. Lei aveva una vera ossessione per il fisico. Il culto della bellezza la portava a stopporsi ad estenuanti seduti di palestra. Spendeva fortuna in creme miracolose. Un po' narcisista e molto esibizionista non perdeva occasione per esibire il suo corpo nudo. Un tarlo la rudeva, però non sopportava la posizione preeminente di Olivia, invidiava il suo talento. E allora perché adesso se ne veniva fuori con quella proposta amichevole di un invito a cena? Olivia si passò una mano sui capelli, perplessa. Al diabolo. Era stanca, affamata, nauseata dell'incontro sgradevole di poco prima con Tardotz e Kordoff. Se poteva concedersi una pausa con Rebecca, tanto meglio. La divertiva come personaggio. E poi era curiosa di sapere quali fossero i suoi piani. Perché di questo era certa, a lei aveva in mente qualcosa. Sapeva bene che non faceva nulla per caso e senza un preciso interesse. Era molto ambiziosa. Va bene, hai ragione. Per oggi abbiamo prodotto abbastanza. Tanto vale andare a mangiare un boccone. Certo, magnifica idea. Lei sorrise radiosa. Lasciami solo finire un attimo, devo chiudere il computer. Ok, vediamoci sotto l'uscita tra venti minuti, così ho tempo di truccarmi. Truccarti? Sembi l'uscita adesso da sotto le mani di un truccatore. Ti vuoi affascinare, bella mia? Eh, le cure per la bellezza non sono mai troppe. Ma tra poco. Fece un gran sorriso luminoso e servì all'uscita. Presto fu solo più un ticchettio veloce di tacchi a spillo che si perse lontano nei corridoi deserti. Olivia finì di impostare il pc sul programma di calcolo. Avviò una serie di comandi dispose per un backup automatico e sequenziale, sempre proteggendo il tutto con le password. Poi si alzò dalla sedia e si stirò. Mi faceva una male la schiena e il collo. Provò un senso di colpa nel lasciare il laboratorio proprio adesso che stava raggiungendo qualche risultato. Poi riflette che tanto per quella sera non c'era nulla che lei avrebbe potuto fare di più e meglio del computer che aveva appena programmato e stava lavorando per lei. E così si consolò. Poi l'idea di uscire con Rebecca la intrigava. Era curiosa di conoscere i suoi piani. Diede una michevole pacca di saluto al monitor del laboratore che continuava a ticchettare in silenzio. Strano come ci si può affezionare degli oggetti, pensò. Azionone chiusò l'automatica delle finestre. Reinserì controlli ambientali, elettronici, spense l'interruttore. Era tutto silenzioso e buio adesso. Solo la porta del laboratorio era ben visibile, inquadrata dalle luci di emergenza del corridoio. Uscì e chiuse con la combinazione alfanumerica che conoscevano solo lei e pochi altri. Si diresse la sua toilette personale, inserì tesserino magnetico ed entrò. Rebecca doveva essere già di sotto che l'aspettava. Ebbene, che aspetti, si disse, con appunto di malignità. Si passò un velo di trucco sulle labbra sensuali, si spazzolò i lunghi capelli, prima di raccoglierli nuovamente nella coda di cavallo. Due gocce di colirio negli occhi ed era pronta. Estrasse dal suo armadio personale il sopravito di Renner si era appena fatto confezionare. Certe volte, quando si sentiva depressa, sentiva il bisogno di concedersi qualche acquisto extra. L'aiutava a ritrovare il suo buon umore. Ovviamente, era Renner sintetica. Uscendo, incrociò una guardia dalla sorveglianza interna. Buonasera, signorina Levy. Anche questa sera ha fatto tardi. Buonasera, Agents. E buona guardia, mi sorrise. Grazie, ma tanto qui non c'è molto da sorvegliare con questi dispositivi automatici. Fan tutto loro. Non potrò mai ringraziare abbastanza per avermi fatto avere questo posto, Miss Olivia. Te lo meritavi, Agents. Buonanotte. E a domani. L'uomo le era molto affezionato. Aveva lavorato tanti anni per suo padre alla fattoria in Scozia, come uomo di fatica e staliere. La conosceva da quando era bambina. L'aveva tenuta da piccola sulle ginocchia. Le aveva insegnato a cavalcare e le aveva fatto amare la natura, gli animali e la vita semplice della campagna. Anche lei era affezionata a quel rude abitante delle Highlands, che le ricordava l'infanzia e gli anni felici passati per sempre. Era stata lei a farlo assumere a quel posto di tutto riposo, adesso che gli anni gli impedivano lavori più faticosi. Così lui si era trasferito in città con la moglie, nell'attesa di andare in pensione. Lì al centro i dispositivi di sicurezza automatici erano così sofisticati da rendere superfluo il personale di sorveglianza, che tuttavia per legge doveva figurare, almeno sulla carta. Rebecca era di sotto e che aspettava. Mentre scendeva dal grande scalone, notò come tradisse la sua impazienza, passeggiando nervosamente avanti, indietro, nell'atrio, guardando continuamente l'orologio. Quel suo atteggiamento ne sospettì. Perché doveva essere tanto irrequieta? In fondo, cinque minuti di ritardo, che differenza facevano per andare a mangiare con la bistecca? Ebbe la tentazione di nascondersi dietro una grande colonna vittoriana di marmo nero per gustarsi il suo nervosismo. Vide che la ragazza estraeva dalla borsetta un minuscolo telefono cellulare componeva in fretta un numero. Notò che parlava sottovoce, ma era agitata, e faceva dei grandi gesti con la sinistra. Notò che parlava sottovoce, ma era agitata. Faceva dei grandi gesti con la sinistra come tranquillizzare il misterioso interlocutore. Era curioso il contrasto fra la sua concitazione e la voce appena bisbigliata. Si guardava intorno come timorosa di essere vista e sentita da qualcuno. Da chi? Da Olivia? Poi chiuso l'apparecchio con un moto di stizza e lo mise via. Olivia decise che era giunto un momento di farsi vedere. Fece gli ultimi scalini, facendo volutamente un po' più di rumore del necessario, e fu davanti a lei. Rebecca aveva indossato una delle sue vistose parrucche, di un rosso tiziano clamoroso. Adesso non sembrava per nulla nervosa. Aveva un'espressione di sincera meraviglia. Fatti un po' vedere? Splendido! Dove l'hai preso? Olivia fece una giravolta su se stessa per far ammirare alla ragazza il sopravito, che aveva acquistato da poco. La naturale eleganza della sua figura, era esaltata da quel capo lussuoso, d'ottimo taglio, e realizzato con un tessuto che imitava perfettamente l'arena, morbido e leggero, che si avvolse intorno al suo corpo come un mantello, dopo aver vuotato senza peso. Rebecca congiunse le mani, un involontario e infantile espressione di ammirazione. È fantastico! Devi darmi l'indirizzo! Devo assolutamente averne uno così anch'io! Mi spiace deluderti, purtroppo è un capo che mi sono fatto fare su misura da Arnold, ed era l'ultimo taglio di cui disponessero. Comunque, ne hanno ancora di molto belli. Rebecca non riuscì a nascondere un moto di dispetto. Ma io voglio proprio quello, disse contrariata. Poi capì che era meglio cambiare atteggiamento e proseguire pensandoci. Non importa. La prossima settimana devo andare a Parigi e troverò certo qualcosa che mi vada bene. Ma adesso andiamo, che muoio di fame. È davvero come una bambina, viziata e infantile. Ma stiamo un po' a vedere cosa le frulla per la testa. Lei passò davanti ad Olivia e uscì dalla porta automatica. Olivia fece un cenno di saluto al guardiano che sediava dietro al bancone dei monitor di sorveglianza e la seguì scuotendo la testa con un filo di sorriso. Forse non dovrei essere così severa con lei. Povera Rebecca. Sono sempre pre più convinta che in fondo sia una grande insicura. Ma si può sapere che necessità hai di metterti con la parrucca così vistosa e con le disgustose unghie finte? Rebecca, appena fuori, alzò il braccio in un gesto imperioso e fece segno a un taxi libero. La rover si fermò vicino alla marcia a piedi. «22, Regent Street, prego». Si infilò nell'auto con un'agile mossa dalle lunghe gambe. Anche Olivia salì e le si accomodò accanto. «Non vorrei mica andare al St. John's?» «E perché no?» rispose lei con un'aria insolente di sfida. Questo scoppiò a ridere. «Questa sera bisogna festeggiare». «Festeggiare? E cosa c'è da festeggiare?» «Ma come? La tua scoperta, no?» Subito Rebecca si accorse di aver fatto un passo falso e si morse il labbro inferiore. «La cosa non sfuggì Olivia», chiese incuriosita. «E quale scoperta avrei fatto, secondo te?» «Ma quella di Arnold, la strattoria in pelle, no? Però non è giusto, me lo dovevi dire che venivo anch'io. Non ho più niente da mettermi». «Eh no, carina, non me la conti giusta. Con quell'aria fatto mi vuoi prendere per il culo. Come fai a sapere che oggi ho fatto un lavoro interessante al computer? Non ho parlato con nessuno». «Comunque, festeggiamenti o no, è da un pezzo che voglio invitarti da St. John's. Fanno un filetto che è la fine del mondo. Come vuoi, è un secolo che non esco. Comincio ad essere stufa di hamburger e pizze. A proposito di pizze, il tuo bel italiano? Olivia, a riferimento a Davide, provò improvvisa nostalgia. «Ma non ci vediamo da mesi. Lui ha molto da fare, lavora in ospedale. Sai, fa l'oncologo». «Ah sì? E allora bisogna che ti sbrighi a trovare la cura per i tumori, così gliela dai da sperimentare. In Italia non vanno tanto per il sottile quanto per le prove cliniche. L'Italia è un paese civile, cosa credi? L'atteggiamento di Rebecca la irritava, non pensava che potesse essere così superficiale. «D'accordo, d'accordo. A proposito, come vanno le tue ricerche?» «Mah, sto seguendo un'idea originale. Sei troppo modesta. Quando dici così c'è sicuramente qualcosa di grosso in pentola. Sempre sulla colonazione virale?» Ecco che adesso con un rapido cambiamento era diventata seria e interessata al suo lavoro. «Sì, sono convinta che si tratti di un filone di ricerca che ci può portare lontano. Ho l'impressione che tu mi nasconda qualcosa. Perché dovrei? Lavoriamo tutti nella stessa casa, no?» Rebecca le si avvicinò, le strinse un braccio accorata e le disse guardandola negli occhi attraverso le grandi ciglia finte. «Sì, ma se scopri qualcosa di importante, dimmelo, ti prego, vorrei esserci anch'io nel momento del trionfo?» «Eh, stai tranquilla, per il trionfo c'è ancora tempo». La studiò con attenzione e curiosità. Rebecca si mordicchiava le nocchie della mano guardando fuori dal finestrino. Sembrava contrariata, come se avesse sperato di ottenere qualche formazione in più. Del resto era così trasparente. I diversi sentimenti ed intenzioni le si potevano leggere in fronte senza difficoltà. Olivia si sentì leggermente a disagio di fronte alla sua palese ingenuità. Poi lei cambiò di nuovo atteggiamento e tornò allegre e spigliata. Il taxi si fermò. «Eccoci arrivati, maduoselle». Nua sì, era stranamente eccitata. Scesero. Rebecca pagò la corsa e raggiunse Olivia all'ingresso. Un portiere in divisa gallonata aprì loro la porta con un inchino. L'interno era lussuoso, caldo ed accogliente, con una profusione di legni pregiati, cristallerie, argenti e fiori. Il maître venne al loro incontro, orsequioso. «Buonasera, le signore hanno prenotato?» Rebecca ebbe un attimo di esitazione. «No, non c'è stato il tempo. Siamo di passaggio, sa, affari». A Olivia diede fastidio con l'atteggiamento falso da milantatrice da quattro soldi, che bisogna c'era di fingere. «Non ha importanza, c'è ancora un tavolo libero. Volete seguirmi, prego?» Mentre attraversavano i locali, in un brusio discreto di voci e su fusi rumori di posate, gli occhi di tutti si posarono su di loro, avidi e curiosi. Erano uno spettacolo interessante, due donne belle ed eleganti, per di più sole. Olivia si sedette di fronte a Rebecca. Questa prese a parlare fitto fitto, con grandi movimenti espressivi delle mani guarnite di quelle interminabili unghie, pettegolezzi, cose di nessuna importanza. Ma Olivia gliene fu grata lo stesso. Aveva bisogno proprio di quello, per distrarsi e riposarsi un po'. Anche se non seguiva tutte quelle chiacchiere, maldicenze, indiscrezioni, si sentiva piacevolmente rilassata. Quando servivano lo champagne, come aperitivo, si lasciò invadere da una piacevole euforia. e per una volta le parve che dopo tutto le cose si sarebbero potute anche mettere bene. Si ripromise, una volta rientrata, di cercare di nuovo per telefono Davide. Da quell'ora doveva per forza esserci a casa. Aveva tantissime cose da dirgli. Ordinarono filetto alla St. John's, una delle specialità del ristorante, e bevero vino Chianti. Olivia era leggermente ubriaca. Il tempo passava, e piacevoli, tra i piatti deliziosi, nell'ambiente lussuoso, con la fatua conversazione di Rebecca. In fondo era una ragazza simpatica, perché non potevano fraternizzare un po'. E così, quando siamo arrivati, lui mi chiede se può salire e subire qualcosa. Pensa che non siamo più usciti di casa per tre giorni. Ma Olivia, mi stai a sentire? Cosa pensi? Ah niente, scusa, un po' di mal di testa. L'ora di andare, domani c'è un mare di lavoro. Ma no, non sono neanche le dieci. No, davvero Rebecca, ti ringrazio davvero per questa bellissima serata, ma adesso devo proprio andare. Non vedeva l'ora di essere a casa, di chiamare Davide, e poi era ansiosa di conoscere cosa fosse uscito dal computer. Come vuoi, però mi sarebbe piaciuto sentire che appunto sono le tue ricerche. Ma niente di straordinario. Sto sempre cercando di ottenere quei modelli molecolari di retrovirus, ma è così difficile. Capisco, ma perché sei sempre al computer? Sto seguendo un programma di ricerca computerizzato, esperimenti virtuali, e un modello di sperimentazione che ho messo appunto con Davide. Ah, ho capito, disse lei tutt'altro indispettita. Non vuoi dirmi nulla. Pazienza, sei gelosa dei tuoi segreti. Benissimo, è giusto, è giusto. Ma no, Rebecca, è che tutto è ancora così vago. Lei piegò il tovagliolo, lo posò con una rabbia trattenuta. Si alzò. Vado a saldare il conto, così non ti faccio perdere altro tempo. Olivia vede alzarsi, dirigersi con passo provocante verso il bancone, anche girando sui tacchi a spillo. Anche lei si alzò, beve un ultimo sorso di chianti e si diresse all'uscita. Seduto ad una grande tavolata, in mezzo a conviviati, piuttosto altici, vide Philip Tardotz. Che combinazione? Era caldato, rubizzo, doveva aver bevuto parecchio, come al solito. Lui le fece un ironico piccolo inchino, cenando un grindisi col bicchiere ormai vuoto, senza smettere di parlare con il vicino. Non sembrava stupito di vederla lì quella sera. Rebecca l'aspettava all'uscio. Il portiere aprì la porta, fu di c'era già un taxi inatteso con motore acceso. Per tutto il tragitto non parlarono. Percorse all'Origent Street, Trafalgar Square, fino a Downing Street, nell'intenso traffico serale, finché il taxi si fermò oltre Bond Street, davanti a una bella villa Liberty, circondata da un parco. Dunque era lì che viveva Rebecca. Doveva essere di famiglia benestante, si disse Olivia. Si dese conto che in realtà non conosceva nulla della sua vita privata. Di sicuro comunque lei era molto interessata alla sua attività. E la cosa la meravigliò, perché sapeva bene che Rebecca stava lavorando con un altro gruppo di ricerca a un progetto molto riservato e comunque diverso dal suo. Era una ragazza ambiziosa, anche se non aveva i numeri per essere una ricercatrice di talento. Era troppo superficiale, addirittura fatua talvolta. Come responsabile dell'attività di ricerca del laboratorio, Olivia conosceva bene il suo curriculum. Era laureata in biologia, ma non era certo una cima. Grazie. Grazie a tutti.